Turno infrasettimanale per l'Assigieco Basket Piacenza che torna in campo domani sera per recuperare la seconda giornata di campionato di Serie 2. I ragazzi di Cocce Saglieri saranno impegnati sul difficile campo della APU All Wild West Udine, una trasferta che sancirà una delle attuali pretendenti al secondo posto in classifica. Entrambe le formazioni sono infatti a quota 18 punti, nel gruppone di seconde che comprende anche Torino e Orzinovi. I bianco-rosso-blu vorranno soprattutto cancellare la delusione dell'ultimo turno con la sconfitta in rimonta subita da Torino. Serviranno maggiore concentrazione nei momenti chiave del match e per il resto ci si affida la vena realizzativa di Matt Tuffy e di un Tommaso Guariglia che in questo periodo sta trascinando la squadra. Dall'altra parte Udine si presenterà con i suoi tiratori migliori, da tenere d'occhio saranno soprattutto la guardia Dominic Johnson e il play Matteo Schina. Grazie a tutti.